Oggi vediamo come estendere e ritrarre contemporaneamente due pistoni appiccicosi su Minecraft posti in verticale come quelli che stai vedendo a video. Ora la sigla del canale e ti saluti a fine video. Ciao sono Marco Vigelini e se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina. In questo modo non perderai i miei prossimi video. In un video precedente abbiamo costruito un doppio pistone estensibile e retrattile in questo modo, orizzontalmente. C'erano tre linee di alimentazione, diciamo di impulsi elettrici che giungevano sul nostro doppio pistone. C'era una prima linea che deve raggiungere il blocco che dobbiamo spostare la seconda linea che deve raggiungere per primo il primo pistone ed una seconda linea di alimentazione che soltanto in un terzo momento deve raggiungere il secondo pistone estensibile. Andiamo a vedere il tutto in verticale. Questi sono i due pistoni in verticale, uno che spinge verso l'alto e quello invece è l'Apid Innerbone e uno che spinge verso il basso, questo in quadrato, che dobbiamo andare a costruire in questo video. Anche questi ovviamente richiedono tre linee di alimentazione. Andiamo a questo punto a costruire per primo il pistone che è doppio e sensibile verso l'alto. Il funzionamento è questo. Allora, prima cosa che dobbiamo fare è mettiamo un blocco temporaneo a terra, poi pistone appiccicoso, pistone appiccicoso e il giallo è il nostro blocco che vogliamo sospingere verso l'alto. Allora, la prima linea di alimentazione che dobbiamo portare è quella verso il blocco giallo. Quindi mettiamo un blocco in questo punto, poi uno temporaneo qui lo distruggiamo, uno, due, tre. Torniamo indietro, mettiamo pietra rossa, pietra rossa, leva e in questo modo abbiamo portato la prima linea verso il blocco giallo. In questa situazione se attiviamo la leva ovviamente non succede niente. Il secondo step, la seconda linea è quella di alimentare questo primo pistone, come è successo nei video precedenti. A questo punto mettiamo questo blocco così, uno, due, tre. Poi portiamo pietra rossa, pietra rossa ed infine il ripetitore di pietra rossa esattamente che sbatte verso questo blocco. Lo posizioniamo e poi indietreggiamo di uno, due, tre e quattro tick. Già in questo momento se noi attiviamo la leva, la leva irraggia questo blocco che riesce ad attivare anche questo. Andate a vedere il funzionamento della leva sui video della playlist della Redstone. In questo modo abbiamo già visto che per l'attivazione è sufficiente questa linea, purtroppo dobbiamo continuare ad alimentare questo blocco per ritrarre il blocco definitivamente nella sua posizione iniziale. Lo vediamo adesso. Perfetto, non ci resta che alimentare la terza linea che deve andare ad alimentare questo blocco. Allora questo lo rimettiamo nella sua posizione di partenza. Allora dobbiamo semplicemente arrivare verso questo pistone, poi doppio ripetitore, uno, due, tre, uno, due, tre e poi pietra rossa. La tempistica era diretto, rallentare di quattro tick, rallentare di otto tick. Vediamo se funziona. Perfetto. Il funzionamento della leva è questo che vi faccio vedere. Vediamo se riesco velocemente con la lampada di pietra rossa. Posiziono così, poi posiziono in basso e poi posiziono quest'altro così. Ecco perché questi blocchi vengono irradiati dalla pietra rossa, dalla leva e irradiando questo qui la leva, ovviamente che sta in questa zona, e stessa cosa, questo blocco di pietra rossa sta in questa zona, vengono attivati. Andiamo a costruire il doppio pistone che spinge in verticale verso il basso. Lo facciamo tutto di un fiato. Allora, blocco temporaneo. Mettiamo il pistone appiccicoso, uno, due, e il blocco giallo che deve essere sospinto verso il basso. Allora, come prima, il primo blocco che deve essere alimentato è quello giallo. Ok? Così, uno, due, e tre. E ci portiamo la nostra pietra rossa. Poi, precedenza, ha il primo pistone. Ok? Uno, due, e tre. A questo punto facciamo così. Poi, ripetitore di pietra rossa, uno, due, e tre. Quindi, prima linea, seconda linea, terza linea, deve raggiungere direttamente il secondo pistone. Uno, due, e tre. E deve attendere, però, otto tic. Così, poi così. L'ho messo qui perché vi voglio far vedere che posizionando la leva in questo modo il passaggio è molto più immediato. E qui invece viene interrotto. Non che cambi qualcosa, ma magari vi può servire di portare questi segnali, diciamo, altrove. Per esempio, facendoli alimentare da questa zona, insomma. A quel punto, in questo punto, ok? Se volete andare in verticale, quindi avendo il pistone che funziona in questo modo, da questo lato, e nascondete il meccanismo da quest'altro, Per portare il segnale dove volete, provate a mettere il vetro in questi punti, perché, come sapete, il vetro permette il passaggio in alto ed in basso del vostro segnale. Quindi potete alimentare, per esempio, il tutto da questo punto. Il... no, da questo punto. Era questo. Continua a funzionare. Ok? Fatemi sapere dove costruirete questi pistoni verticali. Io ho un'idea, ce l'ho laggiù. Scrivimi nei commenti come intendi utilizzare questo meccanismo. Trappola nascosta? Intanto saluto Manu Gamer e Alex, che mi hanno chiesto di essere salutati, e lo sto facendo in questo momento. Se non sei iscritto al canale, fallo adesso cliccando sulla campanellina, ed attivando tutte le notifiche. Poi fai iscrivere anche tu amici. Basta cercare su YouTube, a scuola, con Minecraft. Adesso, metti mi piace al video e non ti dimenticare di commentarlo. Io ti saluto per questo video, ma se ti interessa costruire altre costruzioni interessanti su Minecraft, allora dai un'occhiata ai video che ti suggerisco, e così possiamo continuare a scoprire delle nuove cose insieme su Minecraft. Perfetto, clicca ora sui video suggeriti. Perfetto, clicca ora sui video suggeriti. Grazie a tutti